Ciao a tutti ragazzi da Calcio News, oggi ragazzi vi porterò le ultime importanti notizie di calciomercato su OneFootball Allora, raga, Lukaku sarà un nuovo giocatore della Roma Il Belga potrà venire a Roma verso le 5 di pomeriggio di oggi Per andare a Roma e per firmare il contratto, più per fare le visite mediche Quindi verso domani verrà annunciato come giocatore della Roma Per me la Roma ha fatto un affare, un affare clamoroso Perché per me la Roma è da Champions, vedendo la squadra è da Champions Di Balla-Lukaku per me è da Champions la squadra Non è da Scudetto, non potrà lottare per lo Scudetto Però secondo me per un quarto posto ci sta per un quarto posto Poi Pavard dovrà venire a Milano Però uno di questi giorni si deve chiudere la trattativa Pavard Non si sa quando verrà a Milano Però si dovrebbe chiudere uno di questi giorni Tipo domani, dopodomani, tra tre giorni Secondo me tra questa settimana si chiuderà sta trattativa secondo me Però già si sa secondo me un nuovo giocatore dell'Inter Pavard Poi Tutto fatto per Guendouzi alla Lazio Potrebbe arrivare già oggi Per me c'è la Lazio secondo me con questo giocatore Secondo me Per me per questo giocatore Non sarà un grande colpo Perché Cioè Già le prime due giornate Già ha faticato tanto Ha riuscito a fare zero punti Zero punti in campionato Quindi Per la Lazio Per fare zero punti in campionato Per le prime due giornate È una cosa vergognosa Però per me non è un grande colpo questo giocatore Per me Cioè Non vincerà Per me arriverà al quinto posto Poi Atalanta in chiusura per Ulm Quindi Ulm sarà un nuovo giocatore dell'Atalanta Sarà un nuovo giocatore dell'Atalanta E Il Torino Si è preso Sazonov Domani ci saranno le visite mediche Poi Il Manchester United Prova A prendere Spinazzola E Bonucci vuole la Lazio Perché Bonucci potrebbe andare In tre squadre O alla Lazio O al Genoa All'Union Berlino Ma Secondo me Andrà o all'Union Berlino Alla Lazio Non andrà al Genoa Secondo me Poi Pogba ignora le sirene arabe Vuole riprendersi la Juve Perché l'anno scorso Non ho giocato praticamente mai Quindi vuole farsi un anno con la Juve Kostic Può andare via Per me Può andare via Kostic Dalla Juve Ma Penso di sì Fino ad ora Ha fatto due partite Non ha mai giocato E Come se ne andrà Mi raccomando Ragazzi Se vi è piaciuto il video Mi raccomando Commentate Iscrivetevi al canale E lasciate like E lasciate like